Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Mayra e oggi andiamo avanti con The Sims 3 Animali & Co. E' tornato il nostro unicorno, vediamo se dopo aver adottato un cane e un gatto riusciamo a chiedergli di far parte della nostra famiglia. Se ne sta andando, fermo, 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 chiama l'animale. Dove sta andando? E' impazzito. Aspetta, no, affetto, accarezza. L'hai chiamato? Sì. Vediamo se riusciamo magari prima, non so, ad accarezzarlo, a dargli un bocconcino e poi gli chiediamo di far parte della nostra famiglia, lascia fiutare la mano. Qui ci sono anche dei cavalli salvatici che si sono spaventati, giustamente, poveri. Ah, questo dorme. E poi lo invitiamo nella nostra unità familiare. Speriamo accetti. Oh, ci benedice, grazie. Però a noi interessa soprattutto questa cosa qui, forza. Sì, ho accettato. Oh, finalmente l'unicorno fa parte della nostra unità familiare. Dalia, hai dimostrato di essere in ottimi rapporti con tutte le creature. Ti seguirò dovunque andrai. Finalmente abbiamo il nostro personalissimo unicorno. Adesso facciamo una cosa. Montiamo. E torniamo a casa in un modo molto speciale. Benissimo, perché l'unicorno, se non ricordo male, vediamo. Cavalca. Scave intorno. Eccolo qua, cioè teletrasportati. Quindi andiamo nella nostra casetta e ci teletrasportiamo con l'unicorno. Adesso andiamo a vedere come fa. No? No, ma come no? Ma non siamo tornati a casa, ma scusate. E riproviamo. C'è qualcosa che non va? Teletrasportati. Oh, sì, adesso ce l'ha fatta. Ed eccoci qua, siamo arrivati a casa. Puoi pure scendere adesso. Allora, vediamo un po' se Dalia ha bisogno di qualcosa. Sarebbero le tre di notte. Magari una doccia, quasi quasi, dai. No, fatti un bel bagno. Poi vedo che Ettore è là che sta sgranocchiando qualcosa, perché infatti ha bisogno di istruzione. Le ciotole come sono messe? Allora, sì, questa è piena. E questa anche, ottimo. Qui c'è il nostro gattino che sta dormendo. Guardatelo che tenero. Quindi lui è tranquillo. Oh, ha bisogno di graffio. Dopo magari ti faccio graffiare qualcosa. Loro stanno bene? Sì, stanno benissimo. E allora sapete... Ah, no, aspettate che dobbiamo fare una cosa importantissima. Prima che mi dimentico, dobbiamo occuparci di tutti i nostri piccoli animali. Quindi pulisci, riempi. Facciamo sempre il solito giro. Ah, pulisci, riempi, pulisci, riempi, pulisci. Ah, basta. Ho riempito qui la barra delle interazioni. Intanto vediamo un po' il nostro unicorno. Il problema è che non abbiamo una terza stalla. Si daranno il cambio perché... Oh, tolgo questa parte qui. Ci metto un'altra stalla. E guardate che fa spuntare le piantine. Allora, vediamo un po' i poteri dell'unicorno. Energia in esaurimento. E Mir sta usando l'energia magica. Infatti ci siamo teletrasportati. Limita l'uso degli incantesimi per un po' affinché possa rigenerarsi. Dov'è che mi mostra l'energia magica? E vediamo. No, non è questa. Esercizio fisico. Ci deve essere... No, forse me lo dice con questo. Quindi mancano tre ore. Ah, poi gli unicorni hanno già al massimo l'abilità di salto e l'abilità di corsa. Quindi potremmo provare a fare delle gare internazionali. Magari vinciamo anche. Ha bisogno di vescica. Quindi... No, non posso farti fare pipì. E avresti fame e sete. Allora, bevi e mangia. Ok, lei ha iniziato a pulire le varie gabbie. E questa la dobbiamo riempire, giusto? Si pulisce e riempi. Va bene, aspettiamo adesso. Oh, guardate qua! Un arcobaleno! Ah, sì, grazie. Questo non mi interessa al momento. Divertimento estivo. Sta meglio? Sì, credo di sì. Ah, loro come stanno? Hanno bisogno? Sì, assolutamente sì, di esercizio fisico. E allora, al solito, ormai siamo abbonati a questo campo di addestramento. Vieni qua, eserciti nel salto. E tu... No, sinceramente non avresti bisogno di esercitarti. Quasi quasi, ti faccio venire qua a mangiare. Mangia questo fieno. E poi puoi provare a allenarti per gareggiare. Ah, aspettate che il gattino forse si sta per svegliare. Anzi, lo sveglio io perché è a disagio. Ha fame e ha bisogno di graffiare qualcosa. Scusa, quindi dai svegliati e poi graffia. Mi sveglio? Eccolo qua che sbadigna e si alza. No, che cosa è successo? No, è morto lo scogliattolo. No, mi disfiace. Dov'è? Aspetta. No, dai, ma stavo facendo il giro di tutti. Perché gli mancava il cibo, mi sa. Oh, è morto lo scogliattolino. No. Eh, sì, perché dovevo riempire la ciotola, ma stavo facendo il giro di tutti. Un attimo. Adesso tocca il pappagallo. No, attacca. Oddio, dopo proviamo. Comunque, pulisci e riempi. Ah, che peccato. Non siamo arrivati in tempo. Ma stava pochissimo. Questo l'ho fatto. No, questo posso riempire la ciotola, però. Ah, no, ma l'ho già riempita, secondo me. Forza, vai dal pappagallo prima che muoia anche lui. Che c'è? Ah, aspetta che deve farsi il giretto. Va bene. Hai fatto il giretto? Sì. Allora, prima riempi. Prima che mi muoia di fame. Poi puliscila. Ah, comincia ad avere fame anche lui. Bravissimo. Vedi che hai capito che devi mangiare qui. L'or sono partite. Sì, perfetto. E lui... Ah, sta finito di mangiare. Ah, ecco, bravo. Fai la pipì anche che ne hai bisogno. Stai graffiando? Sì, bravo, bravo. Graffia. Graffia tutto. Puoi anche giocare con questi? Prendi il giocattolino. A posto? Ah, povero lo scugliattolo. Mi dispiace. Con piangi. Non c'è... No, non c'è cadaverino da buttare via, poverino. Povero. Pulisci, dai. Dai, su, basta, piangere adesso. Fai per me che stanno bene, sì. Ok, l'abbiamo pulito. Ci sono le bolle... No! La gente pignoratore sta arrivando. No, questa volta non mi freghi. Questa volta non mi ruberai la doccia perché la elimino io. Questa volta non ti prenderai la mia doccia. Allora, aspettate che intanto ripopoliamo questa. E questa volta magari non prendiamo uno scugliattolino. Abbiamo... Un ratto. No, prendiamo il cricettino perché il ratto non mi ispira tanto. Ecco qua, è arrivato anche il cricetto e gli riempiamo già la ciotola. Però è stanca lei, accidenti. Adesso ho visto. Volevo fare una cosa, prima volevo sgorgare questo. Usarlo e poi la mandiamo ad ora a dormire, visto che ha sonno. Vai a dormire. No! Che stai facendo con la pianta? Lascia stare la pianta! Hai bisogno di istruzione, ma... Hai qui i giochini? Gioca con i giochini? Prendi un giocattolo. Tu con cosa giochi? Ah, con un gomitolo! Bravo! Uh, che capriola! Bravissimo! Ah no, pensavo avesse bisogno di esercizio fisico, ma si sta allenando. Non tornare a casa avrebbe sete. Andiamo a vedere come sta. Visto che hai sete, quasi quasi ti faccio bere. Bene. E tu invece hai fame. Uh, c'è un bebè che sta gattonando da solo. Mangia il fieno. Oh, brava. È riuscita, credo, a riparare il WC. Ce l'ha fatta? Sì, ce l'ha fatta. Allora, proviamo a... Fare amicizie con il papagallo. Allora, basta giocare con il gomitolo di lana. Lui che fa? Credo stia andando a distruggere il giornale. Ecco, bravissimo. Quello puoi farlo. Guarda il cacatua, intanto. Vieni qua. Cosa gli ho detto? Gioca su. Cosa vuol dire gioca su? Aspettate che questa interazione non l'ho capito. Ah, è arrivato l'agente pignoratore. Salve! Dove sta andando? In bagno? Eh, mi spiace, ma non c'è più la doccia. La doccia non c'è più. Dove sta andando adesso? Reagisci in modo negativo. No, poveri. Si sono spaventati. Vediamo un po' come reagiscono. Eh, lui abbaia. Che mi sta rubando? Aspettate che... No! No, no, no. Non mi rubare i trofei, eh. Cosa mi ruba? Ah, il tavolo. Eh, vabbè. Per il momento quel tavolo lì non mi serviva. Si sta stiracchiando. Finito? È bastato quello? Incontrare un animale. Dormire nel letto per animali. Guardare la tv, va bene. Trovare una gemma. Ha finito le... Ma no! Ma cosa mi ruba? Non le tira dal gatto, spero. Cosa mi prende? Anche perché non abbiamo tantissimi soldi. Ah, la pianta. Vabbè, dai. Per la pianticella mi spiace, ma... Possiamo anche stare senza. Basta! Vediamo se se ne va. Sì, grazie. Comunque, no. Volevo vedere, allora. Eh, guarda il cacatua. Ma basta! Masticare i mobili! Mannaggia! Fai una cosa. Ehm... Avresti bisogno di vescica. Dormi. Fai la pipì qui. No, cosa gli ho detto? Sì. L'unicorno come sta? Ah, avrebbe bisogno anche lui di esercizio fisico. Aspettate, allora. Galoppa in giro. Ma si sono spenti le luci? Per quale motivo? Accendi tutte le luci. Ah, grazie. Ti piacerebbe mangiartelo? Lo so io che ti piacerebbe tanto. Attaccalo. Spero non lo uccida, ma non credo. Non penso sia così brutale questo gioco. Ah, c'è una mosca. Ah, che fa? Che fa? Eccolo! No! No. Non dirmi che me l'ha ucciso. No, ma me l'ha ucciso. Se l'ha mangiato! No! Ma no, ma cosa? Ma perché? No, non volevo che se lo mangiasse. Non so se abbia la barra della fame perché si è mangiato il pappagallo o perché ha mangiato prima della ciotola. No, l'ha ucciso! Ma non ci credo. No! Che cosa? Ha sputato le piume. Ha sputato le piume. Se l'ha mangiato? No, gusto di pollo! Dicono che tutto abbia sapore di pollo, ma quando si tratta di un pennuto la differenza non è così grande. Mmm, è polposo e saporito! Ma attenzione alle piume. È molto più facile mandarle giù che farle tornare su per aver mangiato un uccello. Ok, abbiamo perso uno scogliattolo, abbiamo perso anche il pappagallo. Per fortuna che abbiamo acquisito l'unicorno, almeno quello. No, ma che cosa triste! Ma può farlo anche con gli altri animali, forse con l'uccellino. Eh sì, potrebbe farlo anche con l'uccellino, ma no, assolutamente. No, con il roditore? No, con questi no. Ok! Si è mangiato il pappagallo. Allora, intanto vai in bagno perché ne hai bisogno. Poi avresti sonno. Quindi dormire nel letto per animali, va bene? Ti faccio dormire qua. Andiamo a vedere lui come sta. Ah, voleva trovare una gemma, però mi hai sviluppato l'abilità di caccia. Allora, avevamo iniziato, infatti. Ehm, com'è che si faceva? Forse scava una buca. Ah, no, eccolo qua. Fiuto è un oggetto da raccogliere, così dovrebbe andare a caccia. Sì, infatti, mi aumenta anche l'abilità proprio di caccia. Vediamo le nostre cavalle come stanno. Sono stanche e hanno sete. Allora, aspettate che mi occupo anche di loro. Abbiamo un sacco di animali di cui occuparci. Bevi. E lei ha bisogno di socialità. Ah, infatti sta socializzando con questo tipo qui. Ma sapete che quasi quasi? Io la farei tornare a casa. Farei tornare a casa anche Olga. Ah, ma non sei andato a gallopare in giro che avevi bisogno di esercizio fisico? Ah, bene. Abbiamo acquisito il titolo di veloce sulla lunga distanza perché si è allenata molto con la corsa. No, volevo che lui si allenasse. Cioè, no, si allenasse. Andasse a gallopare in giro. Non ci sta. Cosa gli ho detto? Scava. Ok, proviamo a scavare. Ah, aspettate. Dove è andato Ettore? Ah, mi raccomando non allontanarti troppo, sai? Qui c'è un concerto, va bene. Qui sta scavando? Cos'hai trovato? Cos'è? Oh! Ha trovato dell'aglio. Mangia l'aglio. Che storia. Questo sembra proprio il centro della vita notturna in città. Ah, per Ettore, credo. Sì. Però non ho ancora trovato nulla. Vediamo se riesce a trovare la gemma. Si è mangiato l'aglio? Sì, l'ha mangiato. Ma vai a gallopare in giro. Vediamo, se io ti faccio gallopare scava. No. Vai qui. Gallopo in giro, ce la fai? Sì, 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 ok, adesso ce la fa. E dicevo, tu vieni qua. Tu anche. Il micio sta dormendo. E Dalia, quasi quasi, io la sveglio. Compriamo un pappagallo nuovo. Perché quello di prima ha fatto una bruttissima fine. E poi mangiamo. Questo lo pulisco. No, non mi lascio ripulirlo. Ripulisci, mangi agli avanzi. Gattino sta... Allora, adesso avevamo un cacatua. Ci sarebbe il Macao blu dorato e il pappagallo cenerino. Facciamo il pappagallo cenerino. Perché il Macao blu dorato è il primo pappagallo che avevamo incontrato, che ci ha morso. Quindi ci manca il pappagallo cenerino. Volevo vedere se lui stava dormendo. Sì, benissimo. Socializzare con Olga, va bene. Lui è ancora lì che scava. Che scava, che cerca. Aspettate, che ore sono? Quasi le 5. Le 5 andiamo a fare delle gare con il nostro unicorno. Visto... Dovrei pulire Perla. Dicevo, visto che Perla ha bisogno di socialità, socializzami un po' con l'unicorno. Oh, bene, bene, bene. Aspettate, perché Ettore ha portato l'abilità di caccia a 3. Cosa mi hai trovato? Ecco, sta scavando. Forse ha trovato qualcosa. Oh, sì! Ha trovato una gemma! Bravissimo! Ah, che vale 258 un simonion. Ottimo! Voglio dare l'abilità di caccia a trovare un metallo. Forse adesso vieni a casa, però. Ok, lei sta mangiando. Torniamo da Perla. Stai socializzando con Emir? Amichevole, lecafettosamente, fiuta. Socializza. Vorrei che fra loro due magari un po' di amore sbocciasse. Così vediamo anche come avere un poledrino naturalmente. Mi sembra che si possa fare, perché... No! Cosa succede? Avete litigato, di già. Mangiare una pianta. Fiutare i fifi. Perché abbiamo visto con Olga come avere un poledrino andando al centro di addestramento. Penso si possa fare anche tra due cavalli normalmente, così, a casa. Quindi se ce la facciamo, se fra loro due sboccia qualcosa. E sta meglio? Sì, sì, sta molto. Molto meglio sono le cinque. Quindi, cambia abito. Abiti quotidiani. Lui sarebbe un po' stanco. Allora, fai una cosa. Volevo farti fare la pipì, ma... A quanto pare... Non si può? No, non si può. Sali. Dai che andiamo. Benissimo. E andiamo subito... Ah, qui ci sarebbe un simfest, ma... Ah, è lo spettacolo che abbiamo visto prima. Vabbè, ma al momento non ci interessa anche perché... Credo faccia parte di un'altra espansione. Facciamo una competizione di cross country? Internazionale? Dai. Sì, perché devo ricomprarmi la doccia. Beh, vabbè, le pianticelle non mi interessa di comprarle. Più che altro avere i soldi per pagare le bollette la prossima volta. Ok. Loro stanno entrando. Occupiamoci intanto di loro. Hai bisogno di fare la pipì. Fai la pipì. Tu invece hai fame. Ecco, credo che sia iniziata la gara. Vediamo un po' come sta andando adesso. E... Già sì, hai anche bisogno di bere. E fai il pisolino. Siamo ultimi perché deve ancora iniziare. Inizia. Ah, è iniziata! Ma siamo ultimi! No! Gioco di tutto! Oh! Forse lui non è molto portato per il cross country. Era meglio fare la corsa o il salto. Accidenti, dai! Uh, vabbè, dai! Siamo sul podio. Siamo sul podio. Non male. Terzi. Vabbè, dai, ci può stare. Ah, poverino. Lui è un po' stanco e ha fame. Quindi... Mangia dalla ciotola e vai a dormire. E il gattino come sta? Ha bisogno di graffio. Quindi svegliati e prima di andarmi a graffiare i mobili graffiami questo. Oh, aspettate! Non abbiamo neanche guardato il cenerino. Qua, come si chiama? Il pappagallo cenerino. Cos'era? Sì, il pappagallo cenerino. Oh, che carino! Mi raccomando, non mangiatevi anche questo. E aspettate che... No, non andrà a casa. Voglio provare a fare un'altra gara se siamo ancora in tempo. Sì, facciamo quella di corsa internazionale. Dovremmo vincerla questa. Eh, sì, 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 sì. Assolutamente. Ma, forse... Ce lo facciamo al primo posto? Mi conviene cambiare... Con un correre dei rischi. Accidenti. Corri dei rischi. Giocati tutto! No! Mannaggia! Siamo per tarsi. Sono difficili. Eppure abbiamo l'abilità al massimo. Quelli internazionali sono proprio difficili. Basta, è finito? Credo siano finite. Al momento non ci sono competizioni. Va bene, allora torniamo a casa. Aspetta... Ah, un poverino. Adesso è stanco lui. Quindi è meglio farlo riposare. Oh, ma ci ha buttato giù? Descesa da cavallo forzata. E simbolo non avranno dover smontare da cavallo all'improvviso. Ma a volte l'animale ha le sue buone ragioni. Ci ha disarcionati. Però il problema è che siamo senza una stalla. Siamo senza una stalla. Quindi mi conviene trovarle un posto. Altrimenti lui non so dove metterlo. L'ideale sarebbe qua. O anche qua. Aspetta, eh. Eh, come posso fare? Secondo me... Se tolgo questi... Coppiamo questa... Eh, no, è immensa. No, non ci sta. Quindi lascia stare, rimetti tutto come era prima. Proviamo qui. Allora, tolgo un po' di cose. No, devo toglierne parecchie. Forse anche le scale. Magari così. No, cosa c'è che dà fastidio questo? Sì! Oh, ce l'abbiamo fatta. Vediamo se per caso posso fare anche una cosa. Si possono mettere delle finestre? Sì! Che così si vedono! Aspetta, ci mettiamo, ci mettiamo. Tipo una cosa del genere. Non c'erano le finestre quelle aperte, senza il vetro? Queste! Sì, queste sono senza vetro. Che così restano vicini. Sì, dai, mettiamo queste qui. C'è un color legno? Forse questo. Una qua e una qua. E basta. Adesso però io qua sono senza scale. Vediamo un po'. Sì, no, mi stanno. Volendo posso comunque metterle. Perché sono verdi queste? Mettiamo queste qui? Sì, dai, mettiamo queste. Senza... Aspetta. No. Ci sta? Sì, c'è stata. E ci mettiamo una lampada qui. Una qua e una qua. Così il nostro unicorno sta qua tranquillo. E mangia, bevi e ti fai un bel pisolino. Lei sta tornando? Sì. Vediamo, lui dorme. Lei dorme, lei dorme. Lui ha fatto... Sì, benissimo. È andato a graffiare il suo graffiatoio. Avevi voglia di guardarti la tv. Come si fa? No, secondo me lo deve fare insieme a lei. Quindi. Prendiamo in braccio il gattino. Poverina è molto a disagio. Prendi in braccio. Preso in braccio, sì. E poi probabilmente lo devo fare con lei. Eh, sì, per venire anche a guardarla. Quale formiche sono scappate tutte? No, eccole. Vediamo se... Eccolo qua! Guarda la tv! Interessa? Magari cambiamo canale? Vediamo. Canale shopping. Pesca? Forse la pesca potrebbe interessarli. Tutto bimbi. No, facciamo l'angolo della pesca. Diverti? Spero di sì. Uh, sarebbero anche le due di notte. Quasi quasi. Ma andiamo a dormire tutti. Vediamo. Basta, basta, basta. Metti giù. Però non mi ha completato il desiderio. Ce la fai a metterlo giù? Sì, ce l'ha fatta. E vai a dormire. E anche il gattino che però prima ha fame. Quindi mangia e poi vai a dormire. Ah, dobbiamo mettere anche le luci automatiche. Credo. Aspetta. Vediamo se dormono tutti. Sì, sì, quindi. Spegni tutte le luci e le mettiamo automatiche. Perfetto. Direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Vedrò di rimettere la doccia perché ci manca. Adesso abbiamo i soldi. Poi cercherò anche di instaurare una bella amicizia tra perla e il nostro unicorno. Così nella prossima parte vediamo i poteri degli unicorni. Perché hanno dei poteri magici. E forse riusciremo anche ad accoppiare perla e l'unicorno. Vedremo. Quindi ci faremo qua. Lasciate un piacere e commenti se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti.